Questa è l'anfora che è finita per quasi un anno sul fondo del lago, a 24 metri. Ciao Gigi, buongiorno a te. Allora, ci spieghi, allora intanto oggi l'avete recuperato. Io c'ero quando l'avete messo nella... Esatto. Quasi un anno di affinamento. Quasi un anno, sono tutti curiosi di vedere... Quando lo aprirai? Perché c'è ancora la ceralacca. Sì, sì, sì. Dobbiamo aspettare qualche giorno, penso un settimana, dieci giorni, perché si asciughino, perché il rischio è quello di... Ci si rompono, come adesso, ho una paura che mi rimane in mano e facciamo pico, però è paziente. Una volta asciutte ti chiamo, andiamo insieme, lo apriamo, lo passiamo e lo degustiamo perché siamo tutti curiosi. Credo sia una bellissima sensazione, sei soddisfatto? È immensa, è immensa, è commosso. Come la nascita di un figlio, facciamo... No, il figlio è unico, però diciamo che ci si avviciniamo. Che cosa ti aspetti, allora, Gigi? Intanto, ecco, ricordiamo una cosa, la vitivinicola di Cernobbio, lo ricordiamo che la tua azienda, quella di tua moglie, ovviamente, producete proprio qua, sopra, tra... Dietro qua. Esatto, tra Cernobbio e Masigliano. Metro zero, esatto. Esattamente. Quanti sono i litri che avete messo? Questi qui sono cinque anfora da circa quattro litri, sono venti litri, vanno in donazione all'associazione, come li sai, i proventi... I proventi della vendita a Invincible Dining? Invincible Dining, sì, sì, con giustizia, perché poi l'opera è loro, sono messo il vino. Siamo tutti curiosi adesso, insomma, di vedere la foto. Adesso bisogna aspettare, allora, qualche giorno. Lasciala giù, perché vedo che la cedono... Esatto, sì, esattamente, perfetto. Perché, come succede sempre, sono state giù un anno, adesso vengo io, faccio un anno. Perfetto, lo vediamo che... ecco. Senti, cosa ti aspetti per chiudere, Gigi? Cosa ti aspetti? Io sono positivo, molto. Anche perché, nel frattempo, non so se ce l'ho detto, abbiamo preso la medaglia d'oro su... sui vigni estremi, cioè sul concorso mondiale dei vigni estremi, che ci dà per essere noi così piccoli e locali. Tanta emozione, continuiamo, vai. Abbiamo altri progetti, poi te ne parlerò. Siamo già... Sì, insomma, adesso vediamo allora questo vino comasco, fatto sulle colline di Cernobbio, come è affinato nell'anno di Coi. Grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te di voi. Ciao.